molto bene direi allora a questo punto di far salire il primo giudice di gara qui sul ring e andiamo a chiamare i protagonisti di questo primo incontro di questo derby di questo galà bilettantistico organizzato qui dalla Cinderella Promotion all'angolo rosso combatte per la Belushi Box ma soprattutto oggi combatte per la Roma e già si sente un applauso diamo un calorosissimo benvenuto a Filippi Marco all'angolo blu combatte per il Sino Volca oggi combatte in particolar modo per la Lazio facciamo un grandissimo applauso a Federi Tiziano e facciamo un grandissimo applauso alla nostra bellissima Claudia una delle nostre due ringerla bene signori aspettiamo il via del giudice di gara facciamo ancora un grandissimo applauso a questi ragazzi che stanno aprendo questa serata della Cinderella Promotion Filippi Marco all'angolo rosso per la Roma Federi Tiziano all'angolo blu per la Lazio categoria Juniors tre round da due minuti facciamogli un grandissimo applauso facciamogli un grandissimo applauso a chiama prima ripresa facciamogli un grandissimo applauso a chiama facciamogli un grandissimo applauso a chiama facciamogli un grandissimo applauso a chiama dai Marco dai Marco dai dai Marco dai Grazie a tutti. 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 Fuori i secondi. E diamo inizio alla terza e l'ultima ripresa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Marco, non devi rimanere su quel gaccio. Marco, non devi rimanere su quel gaccio. Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai. Dai, Marco. E, dai, 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 dai. Facciamo anche un applauso al maestro Angileri che ha arbitrato l'incontro Adesso vedremo la valutazione dei cartellini Bene ragazzi andiamo al centro Pado scusa soltanto cameraman dove dobbiamo rivolgirci per i verdetti A questa camera qui A questa camera qui Abbiamo il verdetto Vince questo incontro All'angolo Nessuno Match party